Grazie. Allora, grazie anche dell'invito. Oggi, in questo tempo a disposizione, vi parlerò delle esperienze di comunità e dell'open source avute, come citava Sebastiano, all'interno di tre diversi stati. In particolare, poi, parlando anche di open data e di formazione online o meno, vi parlerò anche di Big Dive, che è una delle attività di Topics, come si citava prima. Topics sta per Torino, Piemonte e Internet Exchange. Nasce come Internet Exchange, oltre a coadjuvare la rete internet nel Piemonte e poi anche in pezzi di altre regioni, è attivo anche con attività sia di streaming di conferenze, sia di formazione, informazione nei modi più svariati, ve ne parlerò brevemente in seguito, e soprattutto nell'attività di formazione dal punto di vista dei dati, della data science, con Big Dive. Allora, iniziamo questo viaggio che vuole anche essere un po' motivante per chi sta continuando a fare eventi anche da casa e porta avanti le comunità in Italia, anche oltre. Sarà un po' un viaggio delle origini, quindi il mio viaggio alle origini parte più di dieci anni fa, mentre stavo studiando fisica. Al tempo scoprì linguaggi sia open sia proprietari come Matlab, più o meno, linguaggio, e soprattutto anche distribuzioni Linux. Al tempo penso che la prima fu Red Hat, grazie a un professore che ci ha aperto un po' questo mondo. Ad Alessandria, dove stavo studiando, sono entrata in contatto finalmente in modo più attivo con la comunità, con un Linux User Group di Alessandria, con cui poi è stato interessante anche agire, non solo come principianti che stavano iniziando questo percorso, ma anche organizzando un Linux Day allora, e quindi avendo, forse per la prima volta, toccato con mano una realtà in cui si poteva contribuire, non solo dal punto di vista di partecipare e quindi creare comunità, ma anche organizzare eventi, di prendere una parte un po' più importante nell'organizzazione e nella diffusione di questo messaggio. Poi, per la felicità di mia mamma, sono scappata via dall'Italia, mi sono trovata a Londra per un paio d'anni, anzi due o tre, in cui sono stata attraverso un internship, ho scoperto non solo i linguaggi Ruby e Java, e Python, anche se in Inghilterra non Monty Python, ma Python è il linguaggio, e per la prima volta ho visto come anche tra co-workers, quindi tra in un ambito laborativo, ci si dava spazio alla sera per incontrarsi, in particolare per questo progetto Rapid FDR. Riprendiamo, da Berlino, a Berlino ho avuto modo di espandere questa fantastica esperienza nel contribuire e essere volontari all'interno di diverse comunità, in particolare Mozilla l'ho conosciuta proprio nell'estate, durante un momento di hacking, che casualmente mi sono trovata a risolvere un bar con il vicepresidente di Mozilla, e l'ho scoperto dopo leggendo l'ambito da visita in realtà, è successo che eravamo realmente tre amici al bar, una persona che poi ho scoperto ad aborare con me a Gueuro, che ora si chiama Omio, e anche l'altra persona che vedete qua di fianco con in mano delle carte da set, che si è deciso di iniziare a fare più eventi per attivare la comunità Mozilla Berlino. Questi mass jam è una cosa che, essendo interessante, l'ho portata poi anche a Berlino, e parlando di contaminazione, è successo che questi mass jam, la maggior parte erano miei colleghi developers, e quindi si è finito per risolvere alcuni problemi matematici con codice Python, e l'anno dopo sono finita in questo grande grande mass jam, a presentare in una grande sala con matematici interessati a questo tipo di giochi, proprio come risolvere temi matematici usando Python. Lì c'è stato anche un ritorno di Go, il gioco non il linguaggio, anche di Rust, che ho iniziato, che però sono ancora beginner, però con Rust si mette un po'. Tornando finalmente in Italia, queste tre comunità, in particolare in cui ero stata attiva, lo riportate anche in Italia. Mazzemmo è già ovviamente uno degli aspetti più goliardici, Mozilla, iniziando a fare un po' di eventi all'interno di Torino, e poi scoprendo la bellissima comunità italiana che fa attività su tutto il suolo italiano, e in particolare anche il Festival Tourism, che l'abbiamo conosciuto a Berlino, abbiamo iniziato a fare un po' di eventi in Italia. E lo cito perché nel Festival Tourism si inizia a pensare anche a ragionare alle grandi cause che possiamo risolvere insieme. E cito questa domanda per chi vorrebbe andare più a fondo, sono interessata a collaborare, se l'accesso a internet, al software libero, potrebbe avere un grande ruolo nella soluzione di grandi problemi dell'umanità e del futuro. Il subito Festival Tourism pensa in grande. E in particolare di recente ho letto che circa 364 milioni di bambini, era un report dell'anno scorso, non hanno l'accesso a internet. In queste fasi di pandemia e di restrizioni, come sappiamo quest'anno è stata un'esplosione di lezioni online. E quindi iniziamo a ragionare su come la tecnologia, sia open sia l'accesso a internet, ha un peso enorme e come in certi casi potrebbe anche essere all'interno dei propri diretti umani. Una cosa, un accenno che voglio dire a tutti, se qualcosa non c'è per diffondere i vostri lavori in una comunità che magari avete visto altrove, sono le viste, createlo. E poi logicamente in contatto con le comunità anche locali, raggruppate sempre più persone per lavorare insieme ai progetti. Poi sotto consiglio di una persona a Torino, quando ero un attimo tre lavori, mi ha consegnato di andare alla PyCon come volontaria e da lì praticamente non ho più smesso. Quindi ho collaborato come volontaria in alcune conferenze sia legate a Python come PyCon o AeroPyCon, che è stata in Italia sempre a Rimini quell'anno. In particolare tramite questo ho scoperto in un focus, che è un'associazione, se vogliamo, a cappello, che è stata creata proprio dai fondatori di alcune librerie open source in data science come NumPy, Pandas, e fa sì di mantenere nel tempo queste librerie open in modo che siano sempre stabili e che possono essere mantenute nel tempo. Quello che poi è successo, che ho iniziato a fare un po' di talk in giro, un po' di sprint, in particolare anche con Pandas, questa libreria Python per la manipolazione di dataset, specialmente in data science, ma può essere utilizzata per qualsiasi tipo di progetto. Come citava a Sebastiano, mi sono capitata anche all'ESC due anni fa, parlano di D-Speech, che in questo momento cambierà probabilmente nome, e con questo mi collego un pochettino a una grossa parte che è stata la mia permanenza di ritorno in Italia, ossia appunto iniziare a lavorare per topics, formando in particolare, facendo progetti di data science, anche in questo caso con dati in particolare di Internet Open, di Miserance Lab, e soprattutto facendo formazione sia a studenti, sia aziende, no profit o meno, tra Torino, Bologna, Madrid, in diversi posti. Quello che è successo, che è una parte grossa di questa formazione, è proprio questo corso estivo, quello che era un corso estivo, quest'anno sono un po' cambiate le cose, in particolare da Big Data 7, sono entrate in maniera più importante, questa formazione da data science a machine learning, che ha fatto sì che avessi avuto l'opportunità anche di introdurre alcuni speaker dall'esterno, come ad esempio è stato uno degli sviluppatori di Deep Speech, che probabilmente nella 1.0 manterrà il nome di Mozilla STT, quindi Speech to Text, e in particolare Common Voice è stato lanciato proprio quella sera, anche in italiano. Common Voice è un progetto che vuole raccogliere il più possibile voci variate, sia per progetti open, che ognuno di voi può andare a fare, sia per allenare questo algoritmo di conoscimento vocale. Per più informazioni posso poi rispondere alle domande o anche in un'altra sede potete contattarmi. Big Dive 8, ecco, in particolare collegandomi a un talk precedente in questa edizione era sulla mobilità, abbiamo avuto modo anche di contattare il Comune di Torino per capire quali open data potevano esserci d'aiuto per capire questo concetto di mobilità e il traffico che c'era. Big Dive 8 è stata dedicata allo spazio e ci ha permesso di collaborare con ESA, con dati realmente dallo spazio, con diversi satelliti, in particolare anche INRIM che è l'Istituto di Metrologia di Torino ha collaborato dando altri dati satellitari più che altro sugli orologi atomici, sono stati dei progetti molto interessanti. e è andato molto bene questo corso estivo di quattro settimane tra giugno e luglio, però come potete immaginare quest'anno le cose sono cambiate, come si fa ad andare oltre allo spazio con una pandemia. e quindi è stato anche l'anno giusto per andare a fare sperimentazione probabilmente. Allora, quest'anno Big Dive abbiamo deciso di dividerlo in quattro moduli, ciascuno di cinque giorni, che purtroppo, come potete immaginare, della primavera è stato spostato. è stato spostato da settembre, ottobre, novembre, dicembre, ciascuno di questi moduli e al momento si è deciso di mantenerlo in aula con tutte le forme di sicurezza possibili e immaginabili. Sarà una versione un po' ibrida in cui ci saranno dei talk online e altri in presenza per alcuni altri progetti che facciamo sotto Topics, ad esempio Cordata, che sono questo insegnamento di dati per no profit sarà interamente online, quindi anche noi all'interno stiamo sperimentando diversi modi per fare formazione nella maniera più agibile a seconda del corso che abbiamo di fronte e della disponibilità degli studenti. La classe sono quest'anno quasi interamente italiana, le scorse anni era un punto di forza avere una classe molto internazionale e in particolare questi quattro moduli, brevemente, il primo modulo sarà proprio su Python e su Data Science perché inizia questa sua carriera con due talk su Geospatial Data e Time Series. Il secondo modulo sarà su Machine Learning e Deep Learning, in particolare con Computer Vision e sarà fatto principalmente dai nostri colleghi di Easy Foundation, sempre qua a Torino, e in particolare ci saranno due talk su Glovo e come loro usano il Machine Learning e su Kaggle, queste challenges con dei dataset avremo un esperto in cittoria che ci farà qualche interesse da quel punto di vista. Il terzo sarà inerente a Data Visualization, saranno utilizzate alcune librerie a JavaScript come FreeJS e Vega e l'ultimo è dedicato al Data Engineering con diverse risorse a disposizione. E quindi la nostra idea è questo appunto di dare, diciamo, i quattro capisaldi nel Data Science e questo è molto utile nel caso in cui un team vuole andare a fortificare una determinata area. Se siete interessati potete contattarmi liberamente. L'escrizione per il primo modulo inizierà tra pochissimo, tra meno di dieci giorni, terminano domani e mezzanotte, però se l'avete saputo adesso, insomma, sentiamoci. Ovviamente potete immaginare i posti sono molto limitati, però c'è ancora uno o due posti per ciascun modulo c'è ancora e penso che come tempi anche ci siamo. Io vi ringrazio, sono aperte domande sia sul lato precedente delle comunità e in particolare voglio darvi un augurio a tutti con questo talk che è di continuare a fare eventi, di continuare a tenere duro nonostante le difficoltà, di non tirarsi indietro perché ci sono alcune difficoltà nel connettersi in questi tempi. Rimaniamo connessi e andiamo avanti a fare eventi, a spingere altre persone, a imparare cose nuove e a scambiarci le conoscenze che abbiamo.